Nuove tecniche mirate ad aumentare la sicurezza globale della chirurgia del glaucoma sono in arrivo. È quanto emerso dal IV Congresso Internazionale sulla patologia del glaucoma organizzato via web e che accoglie i più grandi esperti mondiali di questa patologia degenerativa che coinvolge entrambi gli occhi. Una malattia altamente invalidante che può portare all'ipovisione o alla cecità. Oggi le nuove tecniche sono sia mediche che chirurgiche. Nel campo della terapia medica abbiamo una serie di numerose molecole che sono estremamente efficaci nel controllare la malattia. Penso che tra la fine di quest'anno, l'anno 21, arriveranno nuove molecole di cui parleremo abbondantemente durante il convegno che comincia oggi pomeriggio e che potranno essere di grande aiuto per gestire la malattia glaucomatosa nel tempo. Per quello che riguarda invece le terapie chirurgiche, effettivamente negli ultimi 2-3 anni abbiamo l'introduzione di nuove strategie, nuove tecniche chirurgiche che permettono di gestire questo approccio alla malattia in modo molto beneficace ed estremamente sicuro. Quindi piano piano qualcosa di più si riesce a fare e ottenere un miglior controllo della malattia. Però mi permetto di ricordare che gran parte del peso, del lavoro e della gestione della malattia ci sono i pazienti stessi che devono ricordarsi di farsi vedere al tempo giusto con una certa frequenza senza aspettare di farsi visitare o di pretendere, pensare di poter risolvere la situazione quando la malattia purtroppo è già molto avanzata.